buon dimotta integrale ai cereali allora 8 del mattino di giovedì non mi ricordo neanche che numero è 6 e 7 dicembre 2019 allora fra poco farò il video part 2 del scapolare cosa significa nel frattempo nel framezzo questo piazzo questo video di adesso e così è una mia critica su un paio di cose generalizzata su youtube sui follower sui vari miletto in company ancora allora venite mi incontro voi per cortesia perché sta cosa non la capisco sarà che come sempre anch'io su web non sono un maestro adesso mi sono scaricato da un po l'applicazione youtube studio lì che cazzo l'è voglio capire quando mettono un commento e poi vai a cliccare sul commento per vedere il continuo del commento stesso chi l'ha fatto insomma e non ti appare poi lo riporto cioè apro l'applicazione youtube studio e vedo che il commento non è più disponibile cioè la gente fa il commento e poi lo toglie ora che cazzo mi rappresenta c'è un un haters ovviamente che un certo donato bologna dove mi ha scritto sei un coglione a uno dei miei video sempre se non sbaglio riguardante wallace deve essere un seguace del mythic wallace no è bellissimo perché io rispondo sempre do sempre il mio ok e il mio cuore a tutti anche agli haters perché ho sempre e ribadisco il mio principio se ti esponi devi accettare tutto primo c'è la faccia ce la devi mettere no sono un pochettino fuori dalle righe perché il discorso wallace è relativo a questo cioè la faccia ce la devi mettere quindi chiunque mi fa un commento negativo io rispondo di conseguenza poi io spero un domani di avere tanti iscritti perché mi piacerebbe e quindi non so se potrò sempre comunque rispondere a tutti perché se cominci a avere tantissimi messaggi al giorno magari a tanti non puoi rispondere perché non riesci a starci dietro non perché non vuoi no ok però dico una cosa che senso ha cioè io metto il commento ti do del coglione e poi lo tolgo minchia guerrieri della tastiera di brutto è gente con le palle cioè mi mandi il commento mi dai del coglione poi ti levi in modo che io non ti posso rispondere che non ti posso dire cioè fammi capire gente grande donato bologna ma come lui tanti altri no voglio dire almeno ci sono come l'hamser 86 che dice le sue cagate va bene cioè offende anche va bene però almeno è lì riceve la risposta no quantomeno da quel punto di vista lo apprezzo di più videopillola giusto per dire ma perché la gente fa ste robe ma che cazzo mi rappresenta un altro va scritto in inglese bello bellissimo stupendo canale mi ha consigliato di usare un'applicazione zmeus una roba del genere se non mi ricordo e poi vado a vedere commento non disponibile e ha tolto il commento che cazzo vuol dire sono io ignorante sì sono io forse non riesco a stare a passo coi tempi in parte sì la gente è un po rincoglionita sì sicuramente perché voglio dire che cazzo mi rappresenta vabbè chiudo qua era così un video di passaggio per il prossimo che farò il continuo come ho detto poc'anzi di scapolare cosa significa ragazzi guerrieri della tastiera voglia buondi integrali cereali ciao ciao